Terra Amara, anticipazioni turche, il piano di lascio Demir e scappo a Cipro. Zuleyye vorrà dare un cambio drastico alla sua vita nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Dopo aver scoperto da Muigank e Demir la tradita con Umit, vorrà lasciare per sempre Kukurova e farsi una nuova vita altrove. Sarà pronta a partire per Cipro insieme ad Adnan e Leila, è l'unica a sapere della cosa. Almeno per un primo momento, sarà Sevda, che farà di tutto pur di impedire alla ragazza di lasciare Kukurova per sempre. Durante le prossime puntate Zuleyye sarà molto delusa dall'atteggiamento di Demir. Ha fatto di tutto pur di mantenere la famiglia compatta, soprattutto quando Demir è finito in prigione con l'accusa di aver tentato di uccidere Umit. Invece Luni non si è comportato per niente bene nei suoi confronti e per la ragazza nulla avrà più senso quando scoprirà Damuigan che il marito l'ha tradita con Umit. Proverà a metterlo alle strette per farsi confesserà l'infedeltà compiuta, ma Luni non lo farà e non mostrerà nessun segno di risentimento. Visto tutto ciò non vorrà continuare a stare con Demir, così escogiterà un piano per lasciare Kukurova per sempre. Per farlo avrà bisogno dell'aiuto di Sadi, che farà da intermediario per la vendita delle quote della società Yaman che sono a nome di Zuleyye, in più le farà ottenere i passaporti sia per lei che per i suoi figli. La prima tappa della sua fuga sarà Cipro, poi successivamente si stabilirà in un altro paese europeo. Demir, come tutti i giorni, andrà a lavorare e saluterà Zuleyye, ma non potrà immaginare il piano da lei progettato. L'unica che riuscirà a intuire che qualcosa non va sarà Sevda. All'inizio Zuleyye le dirà che tutto va per il meglio, ma Sevda insisterà e la seguirà in camera da letto. Lila vedrà intenta a preparare le valigie per lei e i bambini, e vedrà anche i passaporti. A quel punto Zuleyye non riuscirà più a nascondere la sua fuga, lascio Demir e me ne vado a Cipro. Sevda sarà incredula, così Zuleyye le spiegherà la sua motivazione, ha scelto di lasciare Kukurova perché ha saputo dell'infideltà di Demir. Sevda proverà a farle cambiare idea e incitarla a parlare con Demir per risolvere la situazione. Ma niente, Zuleyye sarà convinta a non perdonarlo e a farsi una nuova vita altrove. Per Sevda sta compiendo un grande errore e presto potrebbe anche pentirsene. Anche perché Demir, quando verrà a sapere della fuga, sicuramente andrà a cercarla e chissà che cosa potrebbe combinare. Zuleyye le pregherà di non raccontargli nulla, ma bisognerà capire se la donna riuscirà a mantenere il segreto. Grazie. Grazie.